Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi volevo parlarvi di questo canale Telegram che sono andato a creare proprio per racchiudere tutti gli sconti che ci sono nel web e per andare a indicarvi tutte le disponibilità delle biciclette che sono andato a provare. E quindi devo vedere dettagliatamente di cosa sto parlando. Il canale questione è proprio questo, si chiama Ciclismo Sconti, lo potete trovare tutti gratuitamente su Telegram dove ogni giorno andrò ad elencarvi tutti gli sconti che ci saranno sulla piattaforma di Amazon e tutti gli sconti interessanti che avete nel catalogo Decatron. E soprattutto perché in molti mi avete fatto vedere l'interesse di sapere quando sono disponibili le biciclette che sono andato a provare e quelle che andrò a provare prossimamente, perché prossimamente si parlerà anche di biciclette elettriche e quindi rimanete connessi, cliccate iscriviti sul canale e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati e quindi ho creato questo canale che è completamente gratuito. Per chi non avesse Telegram basterà scaricarselo, è un'applicazione in poche parole come Whatsapp, ma possiamo andare a accedere a diversi canali che ci sono all'interno. All'interno di Telegram è pieno di canali che offrono dei disconti all'interno del web, ma non ce n'è nessuno di questo tipo. O meglio, ce n'è qualcuno che parla di ciclismo, ma quelli che ho visto io non mi piacevano moltissimo e quindi sono andato a crearne direttamente uno io. Perché non mi piacevano moltissimo gli altri? Perché molte volte Amazon mette degli sconti che in realtà sono fasulli, quindi mettono un prezzo che è barrato quando in realtà è sempre stato di quel prezzo. Anche qua si possono fare delle ricerche attraverso dei portali ben specifici dove andiamo a vedere tutto il percorso del prezzo. E quindi riusciamo a capire direttamente se lo sconto che è stato dichiarato è vero oppure è una cosa fasulla. E quindi all'interno di questo canale cercherò sempre di controllare almeno due volte se lo scontro è reale o se è un finto sconto. Quindi è stato barrato il prezzo, però il prezzo è sempre rimasto quello. E quindi per questo vi conviene iscrivervi proprio perché è gratuito. Oltre a questo la maggior parte dei componenti, gli accessori che vi metto all'interno sono componenti che trovo io interessanti principalmente e che io in primis comprerei oppure ho già comprato. Quindi per questo vi conviene andare a iscrivervi. Con il periodo che stiamo passando adesso tante volte è molto difficile andare a trovare proprio i componenti soprattutto i pezzi di ricambio delle biciclette. Quindi per questo ho voluto inserire all'interno tutte le biciclette Decathlon appena tornano disponibili perché quando tornano disponibili hanno una vita veramente molto breve e se non siete attenti o se non andate a guardare in quel momento non riuscite proprio a trovarla. Quindi anche per questo vi conviene iscrivervi al canale Telegram e moltissimi componenti della nostra bicicletta. Un esempio è un pacco pignoni, stavo ricercando un pacco pignoni e per cercarlo ad un prezzo non troppo elevato perché molti venditori stanno alzando tantissimo i prezzi perché si fa molta fatica a ricercarli. E quindi qui all'interno cercherò di mettervi i componenti quelli più appetibili quando saranno disponibili. E ci tengo a dire che è abbastanza work in progress ancora quindi se avete dei feedback, dei miglioramenti da dirmi diteli pure qui sotto nei commenti oppure se avete altri siti dove volete andare a ricercare i vostri componenti e soprattutto dove il prezzo potrebbe essere più appetibile e detto questo iscrivetevi al canale Ciclismo Sconti su Telegram è gratuito, non vi costa niente anzi è un posto dove potete trovare tutti gli sconti del web più appetibili per le vostre biciclette e non. Ovviamente vi ho lasciato il link sotto in descrizione del canale se non riuscite a ricercare nella barra di ricerca di Telegram per non sbagliare basta andare qui sotto cliccate all'interno del link e siete direttamente all'interno e vi basterà cliccare su unisciti e ovviamente se non lo avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video perché a breve usciranno nuovi contenuti, nuovi test bike e per non perderli vi conviene iscrivervi subito qui sotto e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!